Il rapporto infatti, come negli anni precedenti, non offre soltanto un ritratto approfondito e aggiornato del Paese, ma contiene preziosi chiavi di lettura delle principali dinamiche che investono il nostro futuro. Costituisce dunque una base di conoscenza imprescindibile per l'azione del Parlamento e del Governo e più in generale di tutti gli attori che concorrono a formare ed attuare le politiche pubbliche, nonché per un dibattito vivo ed efficace. Quest'anno il rapporto sembra assumere un rilevo ancora più significativo. Siamo infatti nella fase di avvio di una nuova legislatura. Sono in corso le procedure che potrebbero portare alla formazione di un nuovo Governo. In questo contesto le analisi dell'Istat costituiscono strumenti indispensabili per individuare le strategie di interventi idonee a dare risposta alle aspettative dei cittadini e alle grandi sfide che il nostro Paese deve affrontare.